«Piper!». La corrente l'afferrò come un pugno e la trascinò a fondo. Lottare era inutile. Piper chiuse bene la bocca, sforzandosi di non ispirare, ma riuscì a malapena a non farsi prendere dal panico. L'unica cosa che vedeva era un torrente di bolle. Sentiva solo i propri movimenti scomposti nell'acqua e il rugito sordo delle rapide. Aveva appena deciso che era così, che sarebbe morta, affogando in uno specchio d'acqua su un'isola che non c'era. Poi, tutta un tratto, fu riportata in superficie con la stessa velocità con cui era stata sommersa. Si ritrovò al centro di un vortice, capace di respirare, ma incapace di liberarsi. Poco lontano da lei, Jason riemersi e boccheggiò con la spada in pugno. Sferrava colpi a destra e a manca, ma non c'era nessuno da attaccare. Cinque metri a destra di Piper, Achelou sorse dall'acqua. «Mi dispiace tantissimo», disse. Jason si scagliò contro di lui, evocando i venti per tirarlo fuori dal fiume, ma il dio era più veloce e più potente. Un'onda si abbatté sul figlio di Giove, sommergendolo di nuovo. «Basta!» gridò Piper. Usare la lingua ammaliatrice mentre annaspava in un gorgo non era facile, ma riuscì ad attirare l'attenzione di Achelou. «Temo di non potermi fermare», si scusò il dio del fiume. «Non posso permettere a Ercole di avere l'altro mio corno. Sarebbe mortificante». «C'è un altro modo», disse Piper. «Non devi ucciderci!» A fatica, Jason riemersi in superficie. Una nube temporalesca in miniatura si era formata sopra la sua testa. Si sentì il rombo di un tuono. «Smetti la figlio di Giove!» lo rimproverò Achelou. «Se evochi la folgore, fulminerai la tua ragazza!» Jason venne sommerso di nuovo dall'acqua. «Lascialo andare!» Piper infuse nella voce tutta la capacità di persuasione che riuscì a raggranellare. «Ercole non avrà il corno, te lo prometto!» Achelou esitò. Trotterellò accanto a lei, con la testa inclinata a sinistra. «Voglio credere che tu dica sul serio!» «Certo!» lo rassicurò lei. «Ercole è spregevole! Ma ti prego, per prima cosa, lascia andare il mio amico!» L'acqua ribolliva, nel punto in cui Jason era sprofondato. «Per quanto tempo sarebbe riuscito a trattenere il respiro?» Achelou scruttò Piper da sotto le lenti degli occhiali. La sua espressione si dolci? «Capisco. Tu saresti la mia dea Nira. Saresti la mia sposa per compensare la mia perdita. Che cosa?» Piper non era sicura di aver capito bene. Il gorgo le faceva letteralmente girare la testa. «A dire il vero, stavo pensando...» «No, capisco», la interruppe Achelou. «Hai avuto troppo pudore per suggerirlo davanti al tuo ragazzo. Hai ragione, ovviamente. Ti tratterei molto meglio di un figlio di Zeus. Potrei mettere le cose a posto dopo tutti questi secoli. Non ho potuto salvare dei Anira, ma potrei salvare te. Erano passati trenta secondi ormai? Un minuto? Jason non avrebbe resistito ancora per molto. «Dovrai lasciar morire i tuoi amici», continuò Achelou. «Hercule si arrabbierebbe, ma posso proteggerti da lui. Potremmo essere molto felici insieme. Cominciamo facendo affogare questo Jason?» Piper riuscì a mantenere il controllo astento, ma doveva concentrarsi. Mascherò la rabbia e la paura. Era una figlia di Afrodite. Doveva usare gli strumenti che le erano stati dati. Fece il sorriso più dolce possibile e alzò le braccia. «Tirami su, per favore!» Il viso di Achelou si illuminò. Afferrò le mani della ragazza e la sollevò dal gorgo. Piper non aveva mai montato un toro prima, ma si era allenata a cavalcare a pelo un Pegaso al campo mezzosangue e si ricordava come fare. Sfruttò lo slancio che aveva e mise una gamba sopra la groppa di Achelou. Poi gli strinse le caviglie intorno al collo, gli cinse un braccio intorno alla gola e con l'altro sguainò il pugnale. Premette la lama sotto il mento del dio del fiume. «Lascia! Andari! Jason!» disse con tutta la forza e l'autorevolezza di cui era capace. «Subito!» Si rese conto che il suo piano era pieno di difetti. Achelou poteva semplicemente dissolversi nel fiume, oppure poteva sommergerla e aspettare che affogasse. Ma a quanto pare la lingua magliatrice funzionò. O forse era l'effetto sorpresa. Probabilmente il dio non era abituato alle ragazze carine che minacciavano di tagliargli la gola. Jason schizzò fuori dall'acqua come una palla di cannone. Sfondò i rami di un olivo e precipitò sull'erba. Una brutta caduta, ma lui si rialzò, boccheggiando e tossendo. Brandì la spada e nubi scure si addensarono sopra il fiume. Piper gli lanciò un'occhiata d'avvertimento. «Non ancora!» Lei doveva prima uscire dall'acqua, senza affogare o essere fulminata. Achelou inarcò la schiena, come per giocarle un brutto tiro. Piper gli premette il coltello sulla gola con più forza. «Fai il bravo toro!» lo ammonì. «L'hai promesso!» disse Achelou a denti stretti. «Hai promesso che Ercole non avrebbe avuto il mio corno!» «E non lo avrà!» ribatte Piper. «Ma io sì!» Sollevò Catoptris e tagliò il corno del dio. Il bronzo celeste ne trapassò la base come fosse di argilla. Achelou mugghiò per la rabbia, ma prima che si riprendesse, Piper gli balzò in piedi sulla groppa. Con il corno in una mano e il pugnale nell'altra, la figlia di Afrodite saltò verso la riva. «Jason!» Lui capì. Una raffica di vento prese la ragazza e la trasportò sana e salva sulla sponda. Piper cadde a terra rotolando, con i capelli dritti sulla nuca, mentre un odore metallico riempiva l'aria. Si girò verso il fiume e rimase abbagliata. «Boom!» Un fulmine trasformò l'acqua in un calderone bollente, che emanava vapore e similava di elettricità. Piper sbatte le palpebre per far sparire i puntini gialli che le danzavano davanti agli occhi, mentre Achelou gemeva e si dissolveva sotto la superficie del fiume. L'espressione inorridita del dio sembrava voler dire «Come hai potuto?» «Jason, corri!» Piper era ancora stordita e morta di paura, ma insieme al figlio di Giove si precipitò nel bosco. Mentre saliva la collina, tenendosi stretta al petto il corno del toro, si accorse di singhiozzare e non capì se fosse per la paura, per il sollievo o perché si vergognava di quello che aveva fatto al vecchio dio del fiume. Non rallentarono finché non raggiunsero la cresta del colle. Piper si sentiva una sciocca, ma mentre raccontava a Jason cos'era successo quando lui lottava sott'acqua, non riusciva a smettere di piangere. Non avevi alternativa. Jason le mise una mano sulla spalla. «Mi hai salvato la vita». Piper si asciugò le lacrime e tentò di controllarsi. Il sole si stava avvicinando all'orizzonte. Dovevano tornare da Ercole alla svelta, altrimenti gli amici sarebbero morti. «Achelou ti ha forzato la mano», continuò Jason. «E poi non credo che quel fulmine lo abbia ucciso. È un dio antico. Si dovrebbe distruggere il fiume per distruggere lui». «E può vivere senza un corno». «Se hai dovuto mentire dicendogli che non lo avresti dato a Ercole, beh, non stavo mentendo». Jason la fissò. «Non abbiamo scelta. Ercole ucciderà, non se lo merita». Piper non sapeva da dove le venisse tanta rabbia, ma non era mai stata più sicura di qualcosa in tutta la sua vita. Ercole era un cretino egoista e infelice. Aveva ferito troppe persone e voleva continuare a farlo. Forse aveva avuto dei periodi difficili. Forse gli dèi lo avevano trattato a pesci in faccia. Ma non era una buona scusa. Un eroe non può controllare gli dèi, ma deve essere capace di controllare se stesso. Jason non sarebbe mai stato come lui. Non avrebbe mai dato la colpa dei propri problemi agli altri. Ne avrebbe mai permesso che il rancore gli impedisse di fare la cosa giusta. Piper non avrebbe ripetuto la storia di Dejanira. Non avrebbe ceduto alla volontà di Ercole soltanto perché era bello, forte e spaventoso. Non l'avrebbe avuta vinta lui stavolta, non dopo averli minacciati di morte e averli mandati da Achelo ad amareggiargli la vita solo per il gusto di indispettire Hera. Ercole non meritava un corno dell'abbondanza. Lei lo avrebbe rimesso al proprio posto. Ho un piano, disse la figlia di Afrodite. Spiegò a Jason cosa fare. Solo quando i suoi occhi divennero vitri, si rese conto di usare la lingua magliatrice. Come vuoi tu, le promise Jason. Poi sbatte le palpebre diverse volte di fila. Moriremo. Ma ci sto. Ercole li stava aspettando nel punto esatto in cui lo avevano lasciato. Fissava a largo due, ormeggiata tra le colonne, mentre il sole tramontava alle sue spalle. La nave pareva posto, ma il piano di Piper cominciava a sembrare una follia perfino a lei. Tuttavia, era troppo tardi per cambiare idea. Aveva già mandato un messaggio iride a Leo. Jason era pronto. E non appena rivide Ercole, Piper si sentì più sicura che mai di non volergli dare quello che pretendeva. Non si può dire che il dio si illuminò quando scorse la ragazza con il corno del toro, ma il suo cipiglio si affievolì. Bene, lo avete preso. In tal caso, siete liberi di andare. Piper lanciò un'occhiata a Jason. L'hai sentito? Ci ha dato il permesso. Si girò verso il dio. Significa che la nostra nave potrà entrare nel Mediterraneo? Sì, sì. Ercole schioccò le dita. Adesso, il corno? No, disse Piper. Il dio aggrottò la fronte. Come scusa? Piper sollevò la cornucopia. Da quando l'aveva tagliato dalla testa di Achelou, il corno era diventato cavo, levigato e scuro all'interno. Non sembrava magico, ma lei contava sul suo potere. Achelou aveva ragione, disse. Tu sei la sua maledizione, proprio come lui è la tua. Sei un eroe da strapazzo. Ercole la guardò, come se stesse parlando in giapponese. Ti rendi conto che potrei uccidervi con uno schiocco di dita? replicò. Potrei lanciare la mia clava contro la vostra nave e trapassare lo scafo. Potrei... potresti chiudere il becco, intervenne Jason, sguainando la spada. Forse Zeus è davvero diverso da Giove. Io non potrei mai tollerare un fratello che si comporta come te. Le vene sul collo di Ercole diventarono di porpora come le sue vesti. Non saresti il primo semidio che uccido. Jason è migliore di te, dichiarò Piper. Ma non preoccuparti. Non combatteremo contro di te. Lasceremo l'isola con il corno. Non ti meriti questo premio. Lo terrò io, per ricordarmi come non essere come semidea. E per ricordarmi dei poveri Achelò e Dejanira. Ercole allargò le narici. Non pronunciare quel nome? Non penserai mica che quel mingherrino del tuo ragazzo mi preoccupi? Nessuno è più forte di me. Non ho detto più forte, lo corresse Piper. Ho detto migliore. Puntò l'imboccatura del corno contro Ercole. Dimenticò il risentimento, i dubbi, la rabbia che aveva covato dal campo Giove. Si concentrò su tutte le cose belle che aveva condiviso con Jason Grace. Volare sul Grand Canyon, passeggiare sulla spiaggia al campo mezzo sangue, tenersi per mano davanti al falò e guardare le stelle. Trascorrere i pomeriggi di ozio nei campi di fragole. E ascoltare i satiri che suonavano il flauto. Piper pensò a un futuro in cui i giganti sarebbero stati sconfitti, Gea sarebbe stata addormentata, e loro avrebbero vissuto insieme felici e contenti, senza gelosia, senza più mostri da combattere. Mentre tali pensieri le riempivano il cuore, si accorse che il corno si scaldava. La cornucopia sparò un profluvio di cibo, potente come il fiume di Achelò. Un torrente di frutta fresca, biscotti e prosciutti affumicati, seppelli Ercole. Piper non capì come tutta quella roba potesse passare dalla bocca del corno, ma pensò che i prosciutti fossero particolarmente adatti. Quando ebbe sputtato fuori abbastanza prelibatezze da riempire una casa, il corno si richiuse. Piper udì Ercole e gridare e agitarsi da qualche parte sotto il mucchio. Evidentemente anche il dio più forte del mondo poteva trovarsi in difficoltà, sepolto sotto una montagna di prodotti freschi. «Andiamo!» gridò la figlia di Afrodite a Jason, che si era dimenticato la propria parte del piano e fissava esterrefatto la catasta di frutta. Lui afferrò Piper alla vita ed evocò il vento. Balzarono via così in fretta che Piper per poco non rischiò un colpo di frusta, ma ogni secondo era prezioso. Mentre l'isola si allontanava dalla visuale, la testa di Ercole sbucò dal mucchio di prelibatezze. Aveva mezza noce di cocco incastrata sulla testa come un elmo da guerra. «Vi ucciderò!» mucchiò, come se fosse abituato a dirlo. Jason atterrò sul ponte del Largo 2. Per fortuna, anche Leo aveva fatto la propria parte. I remi erano già pronti in modalità aerea. L'ancora era stata essata. Jason evocò un vento così forte che li sospinse fino al cielo, mentre Persi mandò un'onda di tre metri contro la spiaggia, sommergendo Ercole una seconda volta sotto una cascata di ananas e acqua di mare. Quando il Dio si rimise in piedi e cominciò a scagliare noci di cocco, Largo 2 stava già veleggiando attraverso le nubi sopra il Mediterraneo.